C'è Vassilios, medicina di precisione scelta. Scusi se l'ho presentata male. Bene, grazie. Buongiorno a tutti. Io parto da dove ha finito l'amico Diego Peroni. E parto da qua per ringraziare Attilio per questo grandissimo invito a venire a Verona, le nostre radici. Forse con Diego abbiamo cominciato e finito con la stessa immagine proprio perché abbiamo le stesse radici. I nostri maestri ci hanno insegnato due cose, le radici e le ali. Le ali per volare a Pisa, per volare a Forlì, per volare a Cagliari nella lontana Sardegna. Per volare, rimanendo anche a Verona. D'altro canto, come diceva Shakespeare, non esiste città al di fuori di queste mura. Valeva la pena di venire qui per sentire le due letture di Attilio, tutte quante, ma soprattutto quelle di Attilio. Quando ero specializzando e sentivo parlare Attilio, si capiva che lui aveva due marce in più. Ma vorrei ringraziare anche un altro maestro, Piero Chiamenti, col quale abbiamo condiviso tante cose quando ero a Verona e anche quando sono andato in Sardegna, vista la sua vicinanza alla Sardegna. Perché vi parlo di questo argomento io? Perché sono stato scelto io? Ma forse perché me ne occupo da circa 15 anni, oltre 15 anni. e avevo addirittura organizzato questo convegno dove tra l'altro c'era Diego a Firenze, dove c'erano degli specialisti di tutto il mondo. Non ho conflitti di interesse per questa mia chiacchierata. E questa è l'agenda della mia chiacchierata. Vorrebbe essere un salto in avanti verso il futuro, ma mi piacerebbe che fosse un salto in avanti verso il presente, perché le cose di cui sto parlando sono qualcosa di molto più tangibile, che si possono toccare. Dove siamo? Siamo qui, siamo al punto di inflessione. Siamo all'inizio di una grande evoluzione. Siamo all'inizio di una grande rivoluzione. Evolution, revolution. Grazie per le discipline omiche del suffisso greco-oma, che vuol dire tutto, cioè un approccio olistico, per andare a trattare il singolo individuo in maniera individualizzata, personalizzata, e soprattutto per fare prevenzione nel singolo individuo, prima che ci sia il disastro, che i boi siano scappati. Qui vedete oltre un centinaio di discipline omiche, qui ce ne sono solo alcune, guardate questo titolo magnifico, medicina individualizzata, from pre-womb to tomb, nemmeno dall'uomb, dal grembo materno, from pre-womb alla tomba. E ancora, ci sono tante discipline omiche, ma abbiamo una sola salute, ricordiamoci che la salute, la medicina, è un fatto esclusivamente individuale. Certo c'è la statistica, l'epidemiologia, ma cosa interessa i genitori? Mio figlio, la mia bambina, Francesca, Daniela, e quello che ci hanno insegnato queste discipline, è che persino questo colpo di scena, che gemelli identici, 100% del genoma, non sono identici, perché? Perché hanno un diverso epigenoma, dal greco epi, io gioco in casa. Sto sopra, vuol dire, sono più importante del genoma, ovviamente è centrionfata per le malattie monogeniche e monofattoriali, che però sono l'1-2%. E quindi i gemelli identici hanno un diverso acetiloma, metiloma, microbioma, funcoma, batteriofagoma, chimerismoma, citochinoma, metaboloma, addirittura tutte queste, oltre, ce ne sono una lista infinita, per essere ciò che noi siamo in condizioni di normalità, il fenoma, in condizioni di patologia, il disesoma. Noi abbiamo imparato questo, la medicina dell'intuizione, lo ricordavo ieri sera Attilio, ho avuto il privilegio di essere seduto alla destra del padre. Quando eravamo in difficoltà, allora si andava a Psordino Gaburo, diceva una meningite tubercolare. Ma com'è possibile? Nessuno aveva capito niente. Oggi siamo qui, evidence-based medicine. Vedo che nonostante l'argomento c'è silenzio in sala, se sentite, sta scricchiolando la evidence-based medicine. Probabilmente crollerà mentre io finisco di parlare. Travolta da che cosa? Dalla precision medicine. Non a caso il presidente Obama. Pensate che negli Stati Uniti circa 4 milioni di persone vivevano grazie alla genomica. Tre punti. Non sono giochi di parole. Metanalysis is not everything. Cioè la scienza, la medicina è andata avanti anche prima della metanalisi. Secondo, evidence-based medicine, but also medicine-based evidence. Vi volete dire che uno che fa 40 anni in clinico deve essere schiavo di un diamante o di un cioccolatino che come una palla da ping-pong va di qua e di là, basta che uno studio sia pubblicato dopo e il cioccolatino passa di là. E ancora, ancora più importante, l'assenza di evidenza non è evidenza dell'assenza. E perché tutto questo è importante? Perché, raga, noi oggi facciamo questo, la medicina e dell'imprecisione. Questo lavoro è già stato citato ieri. Cosa vuol dire? Vuol dire che se prendiamo il secondo farmaco più venduto negli Stati Uniti, funziona in un paziente su 25. Cioè devo trattare 25 pazienti perché uno stia bene, ma gli altri 24 non è che gli arriva qualcosa che non va. L'insufficienza anale acuta, l'insufficienza epatica acuta, l'aumento degli enzimi epatici, un eritema fisso da farmaci allo scroto, se è un maschio, a proposito di differenza di genere. E quindi noi oggi siamo qua. Poca precisione, poca accuratezza. Le discipline omiche ci portano qua. Eccellente precisione, eccellente accuratezza. Perché mi sono dovuto occupare di medicina di precisione? Perché da 15 anni mi occupo di metabolomica e microbiomica. A parte la prima file, le prime due file, chi è che sa cos'è la metabolomica, alti la mano. Beh, questo mi aiuta a divindualizzare la mia chiacchierata. Beh, ci sono cose complesse. Da latino, complexus è diverso da complicato, compliche. Complicato si può dipanare come un tovagliolo, può essere spiegato. Vedete? Non ho certamente tempo di entrare in tutto questo. medicina dei sistemi, delle reti tecnologiomiche. Big data, pronunciato orgogliosamente alla latina. Medicina di realizzata. Sono andato a scomodare Aristotele. Il tutto non corrisponde alla somma delle parti. Cioè uno più uno fa tre, anzi, uno più uno fa nove. Questo è un mio libro, è Long Seller, è stato tradotto in molte lingue. Questo, due mesi fa, è stato tradotto in greco. Questo è il mio nome in greco. Ho pensato a mio padre, che ha lavorato tanti anni qua. Qui c'è qualcuno in sala che l'ho conosciuto molto da vicino. E sono stato costretto ad occuparmi di microbiomica. Why? Perché tutti i metaboliti dell'organismo parlano dell'impatto dei batteri nella nostra vita e nella nostra salute. Diego ha asfaltato la strada, la mia chiacchierata. L'impatto nella nostra health, l'inglese health vuol dire good health or bad health. E guardate qui queste parole nuove di cui i giovani devono occuparsi. Olo bionte, sembra una parolaccia, ma olo bionte sarai tu casomai. Sociomicrobiologia batterica, antropologia batterica, addirittura evoluzione del cervello e batteri. Senti i batteri alla nascita, il cervello non cresce. Ci sono delle scatole craniche piccole, degli encefali piccoli, degli ipocampi piccoli, perché gli ipocampi sono le cellule staminali. Solo alcuni dei metaboliti prodotti dai batteri. Ce ne sono oltre 750 studiate su un magnifico articolo. Bene, Deming ha scritto, noi crediamo in Dio, tutti gli altri, prego, portino dei dati. Io l'ho trasformato così. Sì, crediamo in Dio, tutti gli altri, prego, portino big data, grandi quantità di dati. Big data più l'intelligenza artificiale, cosa viene fuori? Artificial intuition. Cioè il black box medicine, la medicina della scatola nera. Quella non quando è caduto l'aereo, ma prima che cada l'aereo, per fare qualcosa alla prevenzione. E qualcuno ha aggiunto anche long data. Io non ho tempo, ma in radiologia e in oncologia, faccio esempio, un ragazzotto israeliano ha messo insieme un software 30 milioni di lastre che sono identiche come sensibilità e specificità ai tre migliori radiologi israeliani. Però in un anno e secondo possono dire quel paziente con quella lesione dove andrà a finire. Quale magnifico clinico può ricordare come sono andati a finire 30 milioni di pazienti? Why metabolomics? Questo giornalista io non ho grande amore per i giornalisti, però questo giornalista Repubblica ha colto l'essenza, l'impronta individuale come chiave di una medicina personalizzata. Terapie e prevenzione, diagnosi precoce, anzi direi diagnosi precocissime. Qualcuno l'ha chiamata l'ostetoscopio del ventunesimo secolo, qualcosa a che vedere con la medicina personalizzata, con la medicina preditiva. Io abito a tre metri dal mare e vedo queste enormi quantità di pescatori che stanno lì tutto il giorno, ma non pescano praticamente nulla. Questa è la biochimica tradizionale. La metabolomica è pesco tutto quello che c'è, tutti i metaboliti che sono nell'organismo. Tre pennellate per dirvi che è una cosa importante, al di là di quello che penso io. 75.000 lavori su PubMed, non 7.700, 75.000. Eppure solo un medico europeo su dieci sa cos'è, anche in sala pochi hanno alzato la mano. E' ancora una delle dieci tecnologie che cambierà il mondo, non la storia della medicina, il mondo, non lo dico io, lo dice il MIT di Boston. E nel 2018 cosa è stato speso? Guardate l'incremento nella ricerca nei paesi ad alto contenuto socio-sanitario. E come cambierà la vita? Per esempio, per il pediatra di famiglia ci saranno degli stick, tipo quelli delle urine, che daranno la possibilità di fare delle diagnosi precocissime. precocissime. Ma why Metabolomics? Io mangio un piatto di bigoli, magari col tazza sal. Cosa succede nel mio genoma? Nulla. Cosa succede al proteoma? Qualcosa, qualche ora dopo. Cosa succede al Metaboloma? Un grande e tremendo casino, dicono i miei specializzanti. Parola poco elegante, però esprime bene il concetto. E voi mi direte, a noi cosa interessa? Beh, a parte che la Nutri Metabolomics l'abbiamo sentito ieri da Enrico, oggi, la Diego è molto importante. Ma se ho un infarto miocardico acuto, se ho un attacco d'asma grave da 6,9 di pH, il paziente non ce la fa. Anni fa era successo a Borgo Trento, una cosa del genere, no? Ce lo ricordiamo tutti. Cosa succede al denoma? Nulla. Cosa succede al proteoma? Qualcosa, il paziente è già morto. Ci interessa nel terzo millennio? Cosa succede? Il Metaboloma è un grande casino. Sì, però, questo grande casino io lo posso decifrare, decodificare in tempo reale per far qualcosa per questo paziente. Io nella vita reale faccio il neonatologo, vi faccio vedere questo esempio. Tre neonati identici per noi clinicamente che si presentano con questo biglietto da visita, vengono trattati con un protocollo internazionale, l'ipotermia. Per noi sono identici, però cosa succede? i nomi sono fittizi, i casi sono veri. Vengono messi in ipotermia, Paolo muore 48 ore dopo, prima di completare l'ipotermia che dura tre giorni. Mario, invece, ha un'insufficienza dell'anale epatica acuta, la dimissione è un grave danno cerebrale. Dario, sembra uno uscito dal nido. Erano identici per noi questo comportamento, perché se noi guardiamo quello che succede attraverso la lente della metabolomica, allora scopriamo che cosa? che la nostra medicina non tiene conto della straordinaria variabilità interindividuale basale che aumenta clamorosamente dopo uno stimolo. Paolo è qua, questa è la valle della morte, il suo punto lo scopriremo dopo cos'è, si muove poco. Mario, l'insufficienza epatica renale, va verso la valle della morte, torna indietro, però ha un grave danno. Dario è qua, sembra uscito dal nido. Sono straordinariamente diversi in partenza. e questo a prescindere da tutti i nostri protocolli, i nostri protocolli è come dare il 48 drop out a tutti quanti o la taglia small a tutte le signore in sala. Ogni colore è un soggetto prima, durante e dopo l'ipotermia. Ci sono dei metaboliti che sono diciamo dei livelli soglia per la sopravvivenza. Quindi questo pazientino qui purtroppo è mancato, questo è mancato, il metabolito è sceso molto ma non al di sotto di questo livello soglia. Non ci credereste mai ma vivere o morire, avere effetti collaterali dipende dal microbiota, anche polmonare. Chi è che di noi sa questa coppia? Chi è che dei neonatologi sa questa informazione oggi? E allora oggi posso togliere tranquillamente il forse, certamente alcuni pazienti muoiono perché non li abbiamo trattati abbastanza, alcuni pazienti hanno effetti collaterali perché li abbiamo trattati è troppo, i protocolli che usiamo sono calibrati per la media dei pazienti ma la media dei pazienti non esiste. Esiste Attilio, Vassilios, Diego, Maria Bonaria, Gavina, Francesca, non esiste la media. Per far capire questa cosa vi faccio vedere questa installazione, la bellezza della donna americana secondo l'uomo americano, arriva questa cosa qui, una sovrapposizione di mille immagini che non esiste nella realtà. Quello che trattiamo con i nostri protocolli è questo, qualcosa che non esiste. Perché avevamo bisogno della metabolomica? Non avevamo certo già la genomica, la transcriptomica, la proteomica. Perché? Perché la metabolomica è così vicina al fenotipo che noi la possiamo considerare essa stessa il fenotipo. Il genoma mi dice quello che potrebbe accadere, il metaboloma è quello che accade nell'interazione tra il genoma e l'epigenoma e l'ambiente. È importante, vedete, cosa c'è al primo posto? La dieta. Potenza della dieta. È come andare a vedere nei cassonetti come fa la CIA. Si sa tutto di una persona in base a quello che c'è nel cassonetto se vive da solo. Perché molti clinici rifiutano la metabolomica? Uno, perché è un grande casino. due, perché siamo stati abituati a questo. No? Ho un'ipotesi, formulo un'ipotesi, faccio un esperimento e verifico. No, dimentichiamoci. Se ho un'ipotesi, tanto meglio. Se non ce l'ho, non importa. Perché? Perché è la metabolomica che mi crea l'ipotesi, genera l'ipotesi. Allora, cos'è nella pratica? Vi ho detto il suffisso OMA, la prima parte è metabolì, radice di metabolismo che vuol dire cambiamento. La metabolomica è il repertorio globale delle piccole molecole presenti nelle cellule, in dei tessuti, negli organi, nei liquidi biologici. Tutto quello che pesa meno di 1500 Dalton. Questo che vedete qui e tutti insieme fanno un'impronta individuale unica per ciascun soggetto in condizione di salute e di malattia. Se ci facciamo un esame delle urine qui, siamo distinguibili tutti gli uni dagli altri in maniera inequivocabile, senza errori, senza sovrapposizioni. Qualsiasi liquido biologico, altissime tecnologie, si va alla ricerca dei metaboliti discriminanti. Perché c'è il batuffolo di cotone? Perché si può fare in maniera non invasiva, nessun problema con i comitati etici, nessun problema con le mamme, nel caso anche di neonati di 500 grammi. Tutti i liquidi che abbiamo, i biofluidi, studiato a Cagliari in questi anni e questa è la modalità più semplice di rappresentazione, soggetto sano, soggetto malato. Vedete la cosa fantastica che non c'è l'overlapping tra le due nuvole. Questo è una cosa potente. Questo è uno dei nostri strumenti, l'ho acquistato investendo tutto quello che avevo nella ricerca e diciamo the difference between men and boys is the cost of their toys. Sono giocattoloni che costano da 600 mila a 2 milioni di euro. Chiaramente distinguibile un soggetto normale da un soggetto patologico. Cosa c'è sotto? Come funziona? Questo è il sistema gaussiano che noi tutti conosciamo ma il nostro organismo funziona in un altro modo. Le regole non le ho stabilite io. Funziona così. Ci sono dei nodi che sono più importanti degli altri perché hanno tantissime connessioni. La cosa stupefacente per me è stata scoprire che il modo con cui funziona il nostro cervello il modo con cui costruiamo ospedali reti ferroviari in cui funziona la borsa in cui scriviamo articoli scientifici in cui abbiamo rapporti sociali in cui abbiamo rapporti sessuali è questa roba qua scale free network o se preferite hub and spoke. Prima c'è stata un'interessantissima domanda sull'autismo abbiamo studiato tantissimo l'autismo sono la sessantina di metaboliti importanti che distinguono i bambini autistici dai fratelli non affetti e quanto più grande è il diametro tanto più importante è il metabolita verde aumentato rispetto ai controlli rosso diminuito sono costretto a spiegare visto che non avete alzato la mano quindi ci metto un attimo di più se no andrei più veloce e l'altra cosa importante è la connettomica un'altra delle oltre 100 discipline omiche più connessioni ci sono più importante quella zona cosa ci racconta questa storia potrei parlarvi un'ora di questa cosa ma vi racconto questi tre metaboliti questo in particolare da nome impronunciabile è patogno monico e dei clostridi nove bambini su dieci autistici hanno dieci volte negli intestini i clostridi e aumentano questi metaboliti aumenta anche l'acido propionico è esagerato e va a bloccare come un bastone il ciclo di Krebs nella ruota di una bicicletta se voi prendete l'acido propionico in eccesso lo mettete un topo lui ha un comportamento autistlike si possono costruire delle reti straordinariamente complesse come questa dove si può calcolare l'impatto di ogni nodo di ogni connessione nel determinismo dell'autismo si possono costruire reti invece più semplici che però hanno il vantaggio di avere metaboloma e microbioma insieme come sono collegati quindi dimenticate tutto quello che vi ho detto cos'è la metabolomica è un codice a barre è così complesso che la nostra mente non è in grado non solo di ricordarla ma neanche di decifrarla ecco perché abbiamo bisogno dell'intelligenza artificiale in 15 anni abbiamo studiato di tutto di più adesso siamo arrivati alla geriatria la sportomica dal liquido amniotico neonato bambino faccio vedere qualche dato di ostetricia questi sono delle review lavori sperimentali diagnosi di travaglio di parto diagnosi di infezione da citomegalovirus la capacità della mamma di trasmetterlo al bambino è un problema clinico importantissimo oggi la probabilità di far diagnosi di tirare in alto testo croce qui arriviamo delle sensibilità delle specificità altissime intorno al 96% questi stessi metaboliti questa è un'altra modalità di rappresentazione più semplice sono gli stessi che troviamo nel liquido amniotico nelle urine del neonato questo non stupisce sapendo qual è l'origine delle urine ancora in pronto soccorso ostetrico non c'è bisogno di visitare la paziente si può fare diagnosi di quello che ha attraverso la metabolomica metabolomica della placenta senza sapere nulla della signora possiamo dire se è normale se è sovrappeso se è obesa e se ha il diabete o non ha il diabete solo con la potenza della metabolomica questo lavoro fatto con il professor Facchinetti che è un grosso esperto di donne obese le prime urine della gravidanza riescono ad anticipare la comparsa di diabete gestazionale se verrà confermato stiamo facendo un secondo studio credo che avremo dei risultati interessanti questo è un progetto CCM concluso da poco dove abbiamo valutato le placente di quattro aree italiane senza sapere nulla si può dire dove ha partorito la mamma e uno dei criteri di inclusione era che vivesse da dieci anni in quel luogo guardate sono solo due delle migliaia di metaboliti che riusciamo a dosare insieme a professor Ragusa e professor Agosti stiamo studiando l'impatto della plastica la plasticenta la plastica nella placenta lui è stato il primo a descriverlo nel mondo è la plastica nel latte materno e guardate questi corpi di inclusione ovviamente si fa di agno di solo di quello che si conosce quindi i microscopisti elettronici non sapevano cosa fossero è plastica sono pezzi di plastica latte materno molti lavori sono scaricabili gratuitamente il primo lavoro della letteratura mondiale un latte formulato un latte materno di mamma che ha partorito un neonato pretermine questo duomo di Milano è molto più grande perché? perché c'ha dei metaboliti alieni che non sono presenti nel latte materno la prima revio della letteratura si può dire che questo latte del commercio va bene per i bambini sopra i 1500 grammi e questo latte va bene per i bambini sotto i 1500 grammi questi altri latti probabilmente dovremmo buttare nel cestino perché essere vicini vuol dire andare molto meglio essere meno di simile non dico più simile al latte materno gli oligosacardi sono molto importanti e abbiamo visto che ci sono due terzi di mamme in Italia e in Europa che hanno il fenotipo secretore per una volta dipende dalla genetica è importante questo e dipende dagli oligosacardi fucosilati segnatamente da 2 fucosilattosio perché è importante perché le mamme che hanno un fenotipo secretore sono annullate molto più protettivo nei confronti delle infezioni da clostridi e sono molto protettive nelle enterocoliti necrotizzanti la cosa interessante è che questi oligosacardi possono anche essere dosati nelle urine del neonato quindi con uno stick si può andare a riconoscere abbiamo studiato molto cose ma non c'è tempo fino ai fortificanti con latte d'asina che è quello che è più simile chiaramente al latte materno ma con l'odi ha creato un disastro nessuna mamma userebbe latte d'asina a parte il costo che è molto più elevato e insieme a Diego Peroni stiamo studiando il metaboloma il microbioma di patologia le grandi sindrome ostetriche ritardo di crescita intrauterino preeclampsia e appunto diabete gestazionale ma anche l'obesità mamme con sovrappeso e anche le mamme con il latte delle mamme con covid vi faccio vedere qualcosa in anteprima il latte delle mamme covid è uguale a quello delle mamme non covid a parte il colostro e questo non è un non risultato è un grande risultato e giustifica il fatto che noi abbiamo dato il latte materno anche in queste condizioni prevenendo la trasmissione verticale abbiamo studiato i lati biologici ma non ho tempo per parlarne però ha degli effetti tipo epigenetici e questo è uno studio europeo che abbiamo in corso sui distruttori endocrichi nel latte materno e nel latte artificiale per quanto riguarda il neonato vi faccio vedere una carrellata della versatilità della tecnologia età gestazionale senza nessun errore tipo di parto cesareo spontaneo anche qui i batteri sono molto importanti un terzo di questi metaboliti riguardano i batteri primo lavoro della letteratura sulle sepsi soggetti pretermine normali early onset sepsis prima delle 72 ore late onset sepsis dopo le 72 ore medicina individualizzata il singolo bambino questo bambino di un chilo dei 50 che ha un'infezione da funghi va verso la valle della morte poi grazie alla terapia torna indietro ma dopo 21 giorni ancora molto distante dalla situazione di normalità che è questa malattie congenite del metabolismo c'è un grandissimo interesse in letteratura su questo anche perché c'è la possibilità di scrinare molto di più a patto ovviamente che le malattie siano curabili o prevenibili o modificabili dottor terioso di botallo che per noi neonatologi è un problema molto importante ritardo di crescita intrauterino abbiamo sentito ieri una magnifica lettura del psorma face bene queste sono le urine i soggetti di controllo e urine agli UGR vedete che sono completamente diverse non entro nelle curve ma la cosa molto importante è che c'è una enorme escrezione di mionositolo nei bambini agli UGR questo mionositolo il professor Facchinetti ha scritto un intero libro su questo è un secondo messaggero a livello intracito plasmatico di diverse sostanze come l'insulina e la cellula sta bene se il mionositolo sta dentro la cellula quando va fuori la cellula soffre pensiamo al discorso cerebrale si vede anche nelle risonanze magnetiche abbiamo studiato i bambini troppo piccoli di peso not enough birth weight quelli troppo grandi di peso too much birth weight tutti hanno un'enorme escrezione di mionositolo cioè si comportano pur essendo molto diversi in maniera identica il neonatologo non è stupito perché questi bambini pur essendo molto diversi si presentano a noi con il biglietto da vista ipoglicemia questo significa che le vie metaboliche barra metabolomiche sono le stesse e da grandi avranno la sindrome metabolica e guardate questo lavoro la nuvola con gli AGA la nuvola con gli UGR e i large for gestational age sono insieme e guardate le famose valigette la UC1 100% di sensibilità e di specificità il sogno del clinico taglio un po' su questa cosa ritardo di crescita extrauterino è molto complesso spero vi fidiate è interessante perché alcuni neonati possono diciamo grazie alla nostra pensando di fare bene aggressive nutrition possono precipitare prima verso la sindrome metabolica noi pensiamo di fare bene oggi la sioma di fargli crescere come se fossero all'interno del germe materno se uno ci riflette credo che sia un'enorme sciocchezza conoscendo tutto quello che sappiamo oggi della epigenetica però queste sono le guida e qui poi il giudice dice come mai non è applicato le linee guida enterocolite necrotizzante si può seguire il metaboloma in questo caso il microbioma di soggetti in maniera individualizzata e ci sono dei metaboliti molto importanti come l'acido gluconico perché il gluconico è prodotto dai batteri le cellule umane non riescono a produrlo quindi è un marcatore fantastico di enterocolite necrotizzante se lo prendete e lo inserite in un topo lui ha un'anecch fate l'autopsia e gli vedete che è un'anecch istologica la displasia broncopolmonare io abbiamo sentito una magnifica lettura per il professor Baraldi noi abbiamo fatto questi due studi con le urine e la nascita si riesce a dire chi avrà la broncodisplasia il professor Baraldi due anni dopo ha dimostrato questa cosa nel liquido amniotico quindi cosa vuol dire suggestitis congenital disease non vuol dire che è una malattia genetica vuol dire che è una malattia genetica più epigenetica introterina inflammation è molto importante l'autismo abbiamo prodotto tantissimi lavori questo è un atlante metabolomico diciamo principale ce ne sono tantissime di cose che possiamo sapere in maniera individualizzata oggi si possono fare le indagini di routine metaboloma microbioma in maniera chiaramente molto selezionata e avere tantissime informazioni e curare i bambini in maniera personalizzata non tutti i bambini autistici sono uguali non a caso si parla di disturbi dello spettro autistico dentro è un contenitore dove ci sono le mele le pere le banane le fragole abbiamo studiato molto questi argomenti in psichiatria e non solo in neurologia in psichiatria pensate che abbiamo fatto una metabolomia e questo è un altro progetto europeo su 1347 gemelli una parte di questi erano gemelli identici cioè l'esperimento perfetto in natura casi clinici ne ho portati due una bambina ai cui i genitori hanno gridato al miracolo una bambina con sindrome panza che con una situazione personalizzata ha migliorato tantissimo non andava a scuola da due anni e mezzo si voleva buttare sotto la macchina ha perso la grafia non abbracciava i genitori terapia personalizzata non diamo la dieta al fogliettino tutto uguale le cose da fare tutto uguale ma in base a quello che aveva tra l'altro aveva una gravissima deficit di vitamina B2 ci sono dei bambini che hanno dei microbiomi tremendi bifidobatteri lato bacilli i batteri amici dell'uomo donati sentite che verbo che uso dalla mamma rispettivamente col segreto vaccinale la più grande bevanda probiotica che c'è in natura e donati dalla mamma col latte materno un neonato sano ha dal 50-70% di bifidobatteri nell'intestino e oggi i nostri neonati soffrono della disbiosi bifidobatterica guardate i batteri cattivi bad boys clostridium difficile alle stelle fecalibatterium prausniti che è importante dopo l'anno e mezzo sotto i tacchi la kermansia che è la vera star dell'intestino ne senterete parlare sempre di più è aumentata perché per significato compensatorio se crolla anche la kermansia i problemi sono enormi questi invece sono i metaboliti di un bambino che è perfettamente normale quindi non ha una desbiosi tutti i metaboliti qui sono solo in parte legati ai batteri sono normali abbiamo studiato l'endometriosi un problema tremendo per chi ce l'ha tremendo il cancro del colon e del retto con un campione di urina senza fare nulla si può dire tu sei normale tu hai il cancro del colon tu hai il cancro del retto ottorino la ringoiatria anche dell'adulto farmaco metabolomica si può dire prima di dare il farmaco se funzionerà non funzionerà andate a vedere gli istogrammi degli investimenti delle aziende farmaceutiche che prima erano schizzinose perché volevano vendere tutto a tutti e adesso sono costrette perché i sistemi sanitari pagheranno solo i farmaci efficaci e non tossici ma soprattutto perché se uno investe 12 milioni di dollari per arrivare alla fase 1 o alla fase 4 metterlo sul mercato poi ci sono 7 case di insufficienza nenaria e insufficienza epatica e viene ritirato il farmaco dal commercio chi è che può perdere 12 milioni di dollari non è filantropia è business eccola qua la farmaco metabolomica se qualcuno è interessato a questo lavoro di 24 pagine è piuttosto recente e c'è tutto la sportomica abbiamo studiato 3 squadre di calcio di serie A questi sono i primi articoli il covid-19 si è perso tanto tempo si poteva fare la metabolomica per problemi di comitati etici ci hanno bocciato gli studi una cosa allucinante quando poi con l'app del telefonino il primo hacker di 11 anni poteva prendere tutti i nostri dati ed è possibile con la metabolomica change the fate come dicono gli autori anglofoni ancora qui troverete la risposta come mai in alcuni paesi l'Africa ma soprattutto l'India che è il paese geneticamente più predisposto al covid addirittura i casi di mortalità erano spressi nella misura LAC cioè 1 su 100.000 perché altrimenti rispetto all'Europa agli Stati Uniti non c'era l'istogramma era 0 dieta ricca di spettie guarda caso e microbiota abituati al nulla praticamente a tirare fuori le cose dal nulla questo è il penultimo lavoro che abbiamo pubblicato su PubMed ha detto giustamente Attilio Inovax non ci sarà bisogno perché con la metabolomica si potrà dire il vaccino avrà efficacia e non avrà effetti collaterali quindi non ci sarà più bisogno prima dell'ultima parte voglio farvi vedere il lavoro più spettacolare secondo me che abbiamo fatto in questi anni sono soggetti di 24 anni apparentemente sani il primo gruppo nati sotto il chilo nel nostro centro il secondo gruppo nati a termine se mi andate un campione di urine di un ragazzo di 24 anni senza errori senza sapere niente vi dico tu sei nato di 3 chili tu sei nato di 1 chilo why per i natal programmi David Barker anch'io mi commuovo quando vedo le cose che ha fatto David Barker perché perché nasce sotto il chilo ha modificato la nostra traiettoria metabolica barra metabolomica dal punto di vista quantitativo e qualitativo forever per sempre intelligente artificiale molti hanno paura a 9000 non so se sapete da dove deriva al sono le lettere che precedono IBM il futuro della medicina sarà basato sull'intelligenza artificiale ci piaccia o no perché perché la biologia è troppo complessa per la nostra è un grande casino cioè basta aprire qualcosa un varco si aprono mondi infinitamente piccoli eppure nonostante tutti gli indicatori vadano su in medicina 3% dell'impiego dell'intelligenza artificiale nel mondo ma scherziamo 3% molti medici temono il confronto con l'intelligenza artificiale perché pensano di perdere il lavoro ma come dice un grande futurologo i medici non saranno sostituiti dall'intelligenza artificiale ma quelli che la usano prenderanno il posto di quelli che non la usano e quindi gli ospedali gli ospedali del futuro arriverà il bambino tutti i biofluidi centinaia di migliaia di dati si preme enter vengono fuori tre malattie il medico va a visitare il bambino e dice o il paziente è la numero due cosa fa il machine learning? fa un lavoro molto noioso e lo fa in un anno secondo noi ci impiegheremo mesi o anni e soprattutto prende delle decisioni più consistenti pensate che in ambito economico ci sono degli agent nei diciamo nei consigli di amministrazione e hanno il loro voto vale come quello degli altri consiglieri perché è molto più consistente molto più razionale molto meno emozionale e questa è una prospettiva anche in medicina l'intelligenza artificiale è stata doganata sdoganata in medicina da poco quando queste grandi riviste che sono state citate anche ieri l'elenco delle riviste importanti le hanno sdoganate vi consiglio questo libro artificial intelligence 2041 c'è anche una parte narrativa sono il CEO di Google China e il più grande scrittore fantasy cinese perché 2041 perché si prevede che in 2041 l'intelligenza artificiale superi quella umana con problemi che ovviamente bisognerà governare e quello che sappiamo oggi è solo una punta dell'iceberg di quello che c'è dietro ma per farmi capire perché è importante l'intelligenza artificiale perché abbiamo decine di migliaia di cose di questo genere non si capisce niente però l'agent mi può dire può scoprire delle cose che nessuno vedeva il mio nome il significato del mio nome altre cose immaginazione Einstein diceva imagination is better than science questo lavoro noi stiamo applicando l'intelligenza artificiale io ho due PhD europei una ragazza di Cracovia che ha due lauree che si occupa di intelligenza artificiale questo è uscito lunedì tutti i ricercatori che hanno fatto metabolomica e microbiomica a proposito di autismo hanno dato i dati originali all'associazione dei genitori bambini autistici di New York hanno preso i due migliori al mondo questi due il primo e l'ultimo nome è una cosa di una complessità straordinaria però credo che sia il modo di fare le cose giuste enterocolite necrotizzante network microbiomici come quelli che ho fatto vedere per la metabolomica che ci dicono chi produce che cosa quale batterio produce che cosa oppure le mappe neurali per quanto riguarda l'acettilazione e la metilazione in quello studio che vi ho fatto vedere a proposito diciamo del progetto europeo degli interferenti endocrini l'ultimo lavoro che un PNR con progetti europei che riguarda quattro paesi l'esposoma quindi tutti i dati e le cartelle cliniche metaboloma microbioma inquinamenti ambientali le acque le terre i fiumi e tutto sto finendo stiamo studiando con l'intelligenza artificiale la voce della mamma dieci secondi la depressione postpartum e quindi le tre M quali sono metabolomics microbiomics machine learning io ho avuto il privilegio durante il lockdown di parlare mezz'ora al Parlamento europeo vado a concludere ma allora cosa sono questi metaboliti i metaboliti altro non sono che il linguaggio segreto dell'organismo linguaggio con cui dialogano cellule cellule batterie batterie microrganismi in generale ci sono anche i funghi come dicevamo prima il protozoio il minti in cui dialogano nei vari assi dell'organismo tutto quello che vi ho raccontato il più importante è ovviamente l'asse intestino microbiota cervello non ho tempo per parlare di tutto vi dico solo i derivati del triptofano acido chinurenico chinurenino acido quinolinico e dintorni che ci dimostrano quanto sia importante l'impatto dei batteri sul nostro organismo e noi abbiamo costruito degli atlanti questi sono in neonatologia non sono social però in questo caso ho cercato di strizzare l'occhio più giovane dico segui gli influencer e troverai la risposta a molti problemi quindi dalla medicina basata sulla genetica la medicina basata sull'epigenetica tramite la metabolomica la microbiomica la genetica propone l'epigenetica dispone la genetica è scritta a penna io non la posso cancellare l'epigenetica è scritta a matita se voglio posso cercare di modificare non il mio passato avrei dovuto scegliermi i genitori o scegliermi i nonni cosa che è chiaramente paradossale e invece l'epigenetica è scritta a matita se io voglio posso cercare di cancellarla e riscrivere il mio futuro questi sono alcuni risultati credo ragguardevoli abbiamo vinto tantissimi progetti in questi ultimi sette anni e ringrazio tutto il mio gruppo e tutti gli enti finanziatori un invito a tutti questo è il mio diciannovesimo convegno organizzato già da un anno nel ventesimo anno ho pensato di fare dalle radici alle ali tutto il gruppo di Verona da Attilio e tutti i discepoli al ventesimo congresso di Cagliari chi fosse interessato c'è questa scuola di alta formazione in metabolomica a Bologna abbiamo avuto un successo straordinario ci sono 74 iscritti e abbiamo dovuto cambiare per questo corso che di solito 20-30 persone due volte l'aula allora vado a concludere ma sta medicina individualizzata è una cosa nuova veramente che racconta Fano se altri no signori è una roba molto antica ipocrate oppure Sir William Osler avevano già intuito tutto insomma alla fine dei conti le scienze omiche e la medicina precisione sono davvero un passo avanti verso il futuro solo coloro che rischiano di andare troppo lontano scoprono fino a che punto possono arrivare grazie posso un attimo solo piccola premessa devo associarmi anch'io a quanti mi hanno preceduto e fare un grande ringraziamento ad Attilio perché negli ultimi venticinque anni mi ha onorato della sua considerazione della sua amicizia quindi tanto grazie ad Attilio poi devo dire beh affascinante è l'unica è l'unica parola che mi viene sicuramente dobbiamo dimenticarci della statistica che numeri ma il paziente il bambino la persona media non esiste ma questo l'avevamo sempre capito in qualche modo intuito e andare sempre più verso ciò che permetterà di curare il soggetto e non una malattia che appare come uguale ma che uguale non è non ho altro da dire lascio a chi sa ben più di me io vorrei ringraziarti e rimango sempre affascinato diciamo che se dipendesse solo da me ti darai una mattinata a disposizione per parlare di questi argomenti e mi ricordo che la prima volta che ti ho sentito su questo tema una decina di anni fa in Sardegna a casa tua rimasi talmente impressionato che da allora tutte le occasioni in cui ho potuto inserirti in congressi non molti in verità ma credo che siano state sempre molto positive allora la domanda che vorrei farti è questa un'affermazione che allora facesti mi restavo molto impressa e arriveremo al punto in cui potremmo con costi relativamente bassi fare un esame delle urine o di qualsiasi altro liquido alla nascita e predire le malattie che un soggetto potrebbe sviluppare nell'arco la sua vita e su queste impostare una medicina personalizzata da allora nella tua pratica quotidiana alla luce di tutte le conoscenze che ci hai esposto che ci potresti ancora esporre cosa è cambiato nella tua quotidianità di cura nel tuo ospedale per i tuoi neonati visto che sei neonatologo sei riuscito ad applicare un qualcosa di pratico o siamo ancora ai livelli in cui è difficile perché i costi sono troppo elevati eccetera eccetera ti ringrazio per il commento per le domande intanto volevo dire che ciascuno di noi senza averla metabolomica sapeva che per esempio in reparto c'era il bambino di 545 grammi che ha superato di tutto l'infezione il pneumotorace la NEC è stato dimesso e c'è il bambino di 1,980 kg che la prima infezioncina se lo porta via purtroppo quindi a proposito della straordinaria verità individuale poi la prima volta che ho parlato di metabolomics è stato Istanbul nel 2009 c'erano 1200 persone in sala c'è stata una domanda dal pubblico la prima domanda non è una domanda era un commento ho alzato la mano ho detto I don't believe in metabolomics non credo nella metabolomica io l'ho guardato ho detto guardi credo che abbia sbagliato sala non stiamo parlando di fede stiamo parlando di scienza nel 2025 non lo dico io ci sono i futurologi che sono lì per quello fanno questo di mestiere 2 milioni di persone al mondo faranno rutinariamente metabolomica qualcuno dice che è discriminante discriminante in questo momento forse ma poi tutto crollerà fino ai deep stick e sarà usato da tutti è sempre stata così la storia della scienza della medicina nel nostro reparto abbiamo applicato in diversi situazioni difficili la metabolomica non le cose acutissime perché c'è comunque un tempo tecnico ma nelle malattie croniche con risultati veramente brillanti per 15 anni ho fatto gratuitamente a tutti quelli che me lo chiedevano che venivano da tutti l'Italia anche dall'Europa dei casi quelli che noi chiamiamo primitivi diopatici criptogenetici c'è dalla serie non ci abbiamo capito nulla ho fatto gratuitamente questi esami che sono anche molto costosi da luglio scorso non ce lo possiamo più permettere perché ho dovuto fare quello di mestiere io di mestiere faccio altro e quindi ecco però si possono fare anche oggi non a livello della struttura pubblica ma ci sono strutture private che fanno metabolomica microbiomica rutinariamente con grande impatto sulla salute dei pazienti dei bambini in particolare perché poi quello che viene modificato parlava prima giustamente Diego del microbiota che può ancora essere modificato e cambiare il nostro destino in momenti specifici della vita dell'individuo possono davvero fare la differenza grazie Vassilios per la tua relazione davvero regale la prima domanda che volevo farti te l'ha già un pochettino fatta dottor Chiamenti cioè se tu pensi che il test di Gutri magari nelle nuove generazioni possa essere nel tempo vicariato da un'indagine delle urine che potrebbe ovviamente oppure pensi che i costi necessariamente non saranno in tempi ragionevolmente brevi abbattuti così tanto la seconda considerazione invece riguarda proprio quando hai parlato delle diagnosi precoci per patologie che non hanno in realtà ancora la terapia mentre parlavi mi venivano però due riflessioni su questo aspetto e volevo sentire il tuo parere proprio in merito la prima è che queste famiglie fanno per anni dei percorsi ospedalieri senza avere diagnosi con una qualità di vita pessima perché non sanno che cosa ha il loro figlio e quindi comunque il potergli dare una diagnosi iniziale è comunque utile da un punto di vista secondo me beh poi sulla qualità di vita bisognerebbe parlare a lungo però comunque assegnare una diagnosi è corretta ma soprattutto il secondo punto che queste terapie nuove escono ogni anno e il sapere che un bambino ha una certa patologia potrebbe essere incanalato immediatamente nei confronti di una terapia che nel frattempo è stata messa a punto è con tuo parere su questo sì grazie anche a te per questa bella domanda c'è un grandissimo interesse soprattutto dall'azienda monopolista che è rimasta per le risonanze magnetiche su questo discorso degli screening anche per ovvi motivi commerciali perché a quel punto uno screening ha legato a tutta la popolazione se c'è la possibilità di fare una cosa che magari costa 60 dollari e uno non la fa quel bambino non ce la fa oppure ha un danno cerebrale giusto per dirle due cose più importanti quindi c'è un grandissimo interesse ecco stanno facendo un enorme studio in Turchia in 14 centri di nascita su questo argomento qui le urine sono solo uno dei biofluidi che è non invasivo e quindi è fantastico è fantastico anche perché può essere tenuto a meno 20 gradi tutti gli altri biofluidi vanno a meno 80 questo è un limite ma ci sono anche altri biofluidi per esempio il sudore non ne ho parlato ma ci sono 175 metaboliti nel sudore che rappresentano le principali patoies metaboliche dell'organismo c'è chi ha addestrato dei batteri anaerobi a dosare le sostanze con dei cerotti che si cambiano in 5-7 giorni vengono poi rappresentati i risultati su un orologio e pensate per il covid no? un paziente che ha il covid sta precipitando l'acido succinico va alle stelle prima che vada alle stelle vedo che aumenta posso fare qualcosa perché chiaramente i comitati etici hanno detto no è va bene così no non va bene quindi dico il sudore ci sono tanti biofluidi le feci per esempio le feci chiaramente poi oggi non ha cioè ha senso fare lo studio multiomico genomica transcriptomica proteomica metabolomica costa una quantità di soldi inimmaginabile e sappiamo che la genomica rispetto all'investimento iniziale ha dato molto poco sono più secondo me interessanti intelligenti gli studi multiomici di metabolomica ciò faccio metabolomica delle urine delle feci del sudore del liquor di quello che volete voi per avere una visione veramente complessiva e olistica di tutto quello che succede nell'organismo non più il fiuto clinico non più l'intuizione non più i cioccolatini o i diamanti che vanno di qua e di là ma quel bambino lì nella sua straordinaria individualità per quanto riguarda i costi a noi costa circa 120 euro più IVA una determinazione chiaramente se uno fa o risonanza o gas massa sono indagini tra loro complementari la prima più panoramica la seconda più analitica va molto in profondità nanogrammi picogrammi fentogrammi quindi in realtà si fanno insieme i costi possono aumentare a livello commerciale costa circa 250-270 euro fare un'indagine metabolomica ma ripeto i prezzi crolleranno molti bambini che hanno fatto il giro delle no 4 parrocchie delle 40 parrocchie sono andati all'estero eccetera trovano enormi giovamenti da quest'indagine i genitori si parlava prima di autismo ne sanno più dei medici se ci fossero i genitori bambini autisti io chiedo chi è che sa la metabolomica tutti alzerebbero la mano e questo gap è una cosa inquietante per me perché è il loro figlio quindi loro mandano le analisi mandavano le analisi in oaio con spese enormi oggi si può fare anche in altri centri ma i costi si ridurranno clamorosamente nel giro di poco tempo soprattutto si sta lavorando io questa settimana ho avuto due call proprio per passare dalla ricerca tradizionale bedside al letto del paziente con grande beneficio del paziente proprio per realizzare questi deep stick con due aziende grazie Vassilios per questa straordinaria relazione che davvero apre un mondo in parte sconosciuto ma che in parte ha degli agganci quotidiani con quella che è la nostra pratica clinica io ti volevo fare una domanda abbastanza settoriale specifica nel senso noi ci occupiamo di asfissia per i natale quindi dell'insulto nostro ischemico pratichiamo l'ipotermia come trattamento di prevenzione possibile unico trattamento che abbiamo peraltro per ridurre conseguenze sul danno cerebrale mi interessava molto stiamo cercando di mettere insieme tutti quelli che possono essere fattori predittivi per l'outcome da appunto oltre ai segni clinici quelli che possono essere i segni elettroencefalografici sia da un punto di vista di analisi qualitativa che di analisi anche quantitativa su cui stiamo cercando stiamo mettendo insieme potenziali evocati che cosa possiamo aggiungerci per avere un predittore d'outcome efficace grazie per il commento non ci siamo messi d'accordo ma insomma mi piace molto questa domanda ho tagliato delle diapositive inevitabilmente che c'era troppa roba ma una delle aree dove abbiamo pubblicato di più e siamo più avanti è proprio l'asfissia noi siamo partiti per quanto riguarda l'analogia dal criterio della mortalità cioè le sepsi le infezioni le meningiti le conseguenze della prematurità e l'asfissia ognuna di queste tre cose è responsabile di un milione di morti l'anno dei 4 milioni di morti neonatali all'anno e al di là di quello alla punta di un asco ci sono i danni d'organo i danni cerebrali di un bambino che ha una qualità di vita che purtroppo conosciamo i suoi genitori sono persone che non produrranno quindi rimarranno a caso cioè tutto un ventaglio di situazioni e quindi siamo andati molto avanti sia nel neonato termine se nel neonato pretermine ci sono degli indicatori formidabili anche di questo abbiamo fatto gli studi con Vinetta Feldman e Eric Halberg ecco abbiamo iniziato con Paolo Gancia che adesso è in pensione a Cuneo che è stato il primo a applicare l'ipotermia e quindi ci sono dei metaboliti molto importanti uno di questi l'ho citato a proposito del Covid è l'acido succinico cioè quando il paziente peggiora l'acido succinico va alle stelle e quando invece non si alza il paziente recupera in 4-4-8 se si alza e poi ridiscende si trasforma in acido fumarico le cose vanno bene quindi basterebbe questo metabolita da un punto di vista pratico sul sangue del cordone umbilicale oppure sulle urine per raccontarci qualcosa se immaginiamo di prendere 8-10 di questi metaboliti non sono quelli che ho fiutato io sono quelli che software sofisticatissimi l'intelligenza artificiale ha messo in ordine gerarchico da crescente quello che ha più impatto quello che ha minore impatto quindi se io prendo i primi 6 e ho una sensibilità e specificità dell'84% dico abbraccio non sono contento prendo il settimo l'ottavo e il nono fino a quando la mia curva ROC non arriva a 1 quindi la sfissia la capacità di predire il danno che è la domanda che fanno i genitori a noi clinicamente come sarà mio figlio camminerà andrà bene in matematica cioè fanno delle domande a molte pratiche e oggi non possiamo rispondere probabilmente queste tecnologie io vorrei dire sicuramente ma non voglio allargarmi troppo potranno aiutarci molto in futuro a fare degli interventi personalizzati non quando il disastro è già successo anche a livello prenatale ancora quindi una delle aree più importanti dove la ricerca si è mossa di più dico ancora che c'è qualcuno che studia il tanato metaboloma e il tanato microbioma quindi dopo la morte se esiste un punto di reversibilità attraverso i metaboliti dei biofluidi ma sarebbe troppo complesso grazie complimenti infiniti perché ogni volta è una nuova volta quindi bravo bravo bravissimo come sempre ti volevo chiedere una cosa in un'ottica però di prevenzione allora noi pediatri dobbiamo lavorare anche sulla prevenzione quindi questi dati cioè queste informazioni sono estremamente utili per categorizzare il rischio di sottogruppi di popolazione che andranno incontro in futuro A la domanda è intelligenza artificiale associata metabolomica epigenetica eccetera ci può dare secondo te nel futuro certo non credo nel presente almeno per le patologie croniche di cui mi interesso darci una fotografia di rischio di sviluppo nell'età successive è ovvio ci vorranno dati longitudinali per questo immagino però ci puoi dire c'è una speranza reale su questo anche per noi pediatri per applicare in maniera migliore nei sottogruppi a rischio anche in vista di una ristrettezza economica della sostenibilità del sistema di prevenzione bene ti ringrazio molto cerco di fare due esempi personalizzati c'è un grande studio su 4.250 e passa soggetti adulti per il diabete hanno fatto genomica trascrittometrica proteonomica metabolomica e hanno visto che cosa che c'erano 7 geni 5 metaboliti 4 proteine e 3 metaboliti di cui 2 andavano su e 1 andava giù il messaggio pratico è 1 non serve fare tutto quello che c'è a monte la metabolomica è la sintesi la leofilizzazione di quello che c'è e quindi basta fare quello anche perché è costosissimo non fare tutto il resto si può fare solo in grandi consorti con 80 milioni di euro giù di lì quindi prima cosa non serve fare tutto quello sopra basta fare la metabolomica seconda cosa a proposito di fattori di rischio se tu hai quei 3 metaboliti fatti così non è un fattore di rischio o c'hai il diabete o il diabete ti viene e se questo è vero e ti assicuro che questo è vero tu puoi dire al diabete fatti più in là nel senso posso cambiare i miei geni no posso cambiare i fattori più genetici la dieta nutrizione l'ambiente salubre l'attività fisica no più volte ricordata anche stamattina un certo tipo di attività sessuale cioè tutta una serie di fattori ecco e se il diabete doveva venire dopo 3 anni ti viene dopo 5 la nefropatia diabetica o l'ulcera che doveva venire 3 anni dopo l'esordio ti viene dopo 5 anni quindi tu dici infatti più in là in questo momento sicuramente la prognazione è fantastica ma io faccio un altro esempio fantastico che riguarda il mondo di cui ti occupi tu oggi è possibile col cordone umbilicale di soggetti a rischio neonati a rischio anticipare la comparsa di diabete di tipo 1 a 4 anni ok con i metaboliti in particolare la lipidomica che è una sottocategoria molto importante i lipidi sono importantissimi quindi tu riesci a dire dopo 4 anni se questo soggetto a rischio lì è a rischio invece la metaboloma mi dice la certezza questa è la grande differenza riesci a dire svilupperà nulla oppure svilupperà anticorpi e antiinsule ma non diabete oppure svilupperà anticorpi e antiinsule e diabete questi metaboliti del cordone umbilicale sono molto simili virgola se non identici virgola a quelli del liquido amniotico quelli del liquido amniotico da cosa dipendono? dalla nutrizione della mamma della massima importanza di cui siamo della massima ignoranza quindi la mamma in base a quello che mangia l'abbiamo sentito oggi anche fa una specie di slide indoors il bambino con la posizione va per di qua o va per di là e questo è molto importante credo che il periodo della gravidanza con quello che ci ha raccontato Attilio che fa riferimento ovviamente a David Barr che è quello che conosciamo in mille giorni dal concepimento oggi si parla addirittura di 6 più 9 più 6 cioè i 6 mesi prima della gravidanza anche per il concepimento anche per il padre i 9 mesi e i 6 mesi perché i 6 mesi dopo perché è quello dell'atto materno quindi in realtà la differenza è tra fattore di rischio e certezza questa è la cosa straordinaria che può fare la metabolomica e in generale le discipline omiche insomma molte domande e molto onore dovremmo però concludere perché se no tagliamo lo spazio a chi c'è dopo anche se vorremmo credo tutti tutto il giorno a sentire volevo solo sapere se stai studiando qualcosa anche sui rapporti con fattori inquinanti e rischi di sviluppare patologie perché leggevo recentemente che la metabolomica potrebbe essere una prospettiva nuova per la quantificazione del rischio degli specifici inquinanti in rapporto a fattori di rischio di malattia è una domanda bellissima io chiaramente ho dovuto correre in affannos diciamo così allora uno è quello studio europeo Life Milk è un progetto Life quindi un progetto che non è di biomedicina ma prevede un intervento anche pratico quindi stiamo studiando con Parma Reggio Emilia e Firenze tutti gli inquinanti ambientali in laboratori potentissimi e si fa un'opera culturale sulle nuove mamme partendo da queste conoscente e si ripete tutto per vedere se c'è stata una riduzione del 30% dei contaminanti ambientali un altro progetto CCM di cui ero capofila che abbiamo concluso era quello sulle placente e sui liquidi biologici delle mamme e lì la cosa incredibile è che senza sapere nulla si può dire che questa mamma vive lì chi vive là senza sapere nulla si può dire a quanta distanza sta dal quartiere Tamburi di Taranto perché sono coinvolte Milano Pisa Cagliari e Taranto è un altro studio molto importante e l'ultimo è quello dell'esposomica che abbiamo appena avuto come grant sono delle otto aree due italiane due spagnole due polacche due ingresi di 100.000 abitanti dove ci sono tutti gli inquinanti ambientali perché noi siamo abituati a questo con quello la TD student tutto è molto complesso enormi quantità di dati la nostra mente non ce la può fare ecco perché c'è bisogno dell'intelligenza artificiale non capisco perché solo il 3% di utilizzo nelle attività umane in medicina cioè non ha senso per quello che penso io bene allora ringraziamo veramente il professor Fanus grazie ancora bellissima relazione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti